Perché si dice che il Regno d'Italia, nato ufficialmente nel 1861, fosse un'estensione del Regno di Serbenia? Perché si parla di piemontesizzazione del Regno d'Italia? Cosa significa la parola piemontesizzazione? In questo primo episodio della quarta stagione del podcast di Italian Time Zone andiamo a rispondere a queste domande guardando agli anni dopo il 1861, quindi dopo l'Unità d'Italia. Se invece vuoi esplorare il ruolo del Regno di Sardegna prima del 1861 e quindi in pieno risorgimento, ti invito ad entrare nel corso completo dedicato al risorgimento italiano, un corso unico di storia italiana per chi studia questa lingua meravigliosa. Trovi il link con i dettagli del corso in descrizione a questo episodio. Entriamo ora nel vivo del processo di piemontesizzazione e innanzitutto andiamo a capire cosa significa questa parola così lunga, così difficile. In italiano usiamo il suffisso izzazione o izzare con il significato di rendere come, trasformare in. Il suffisso ha quindi un uso trasformativo o causativo. Vediamo degli esempi per capire meglio. Nel nostro caso abbiamo la parola piemontesizzazione e potremmo anche avere il verbo piemontesizzare e questo significa rendere come il Piemonte, trasformare l'Italia intera in Piemonte, un po' esagerando ma insomma l'idea di fondo era quella. Allo stesso modo abbiamo anche altre parole che usano questo suffisso, parole come industrializzazione, che ha il significato di rendere una zona industriale, far crescere le industrie, il settore industriale in un certo paese o in una certa area. Ci sono poi altre parole con questo suffisso come urbanizzazione e urbanizzare, cioè il processo di formazione e crescita delle città o schematizzazione e schematizzare, una parola molto utile quando si studia, almeno per una persona come me che ama fare schemi. Questo suffisso può portare con sé un significato negativo o critico, come nel caso della piemontesizzazione dell'Italia, ma in altri casi può dipendere dal punto di vista e dal contesto. Pensa agli esempi precedenti di industrializzazione e urbanizzazione. Sono positivi o negativi secondo te? Prendi questo spunto di riflessione e sviluppa il tuo pensiero in italiano. Puoi condividerlo con me sul mio sito italiantimezone.com. Ora che abbiamo capito il significato della parola piemontesizzazione, e ti consiglio di ripeterla tante volte perché è un'ottima parola per imparare la pronuncia della zeta in italiano, andiamo a vedere perché qui, in questo primo episodio dedicato al post-unità d'Italia, stiamo parlando di piemontesizzazione del Regno d'Italia. Perché il Regno d'Italia è stato trasformato in Piemonte? Allora, la piemontesizzazione del paese è caratterizzata innanzitutto dall'estensione della struttura politica e amministrativa del Regno di Sardegna a tutte le altre regioni italiane. Questa fu retenuta una necessità dai primi governi della destra storica che lavorarono per rafforzare le basi del nuovo Regno. Parleremo in modo più approfondito della cosiddetta destra storica negli prossimi episodi del podcast. Questi governi vogliono mantenere uno stato fortemente accentrato, quindi centralizzato, burocratico e autoritario. Vediamo quindi nel dettaglio alcune mosse, alcune cose diciamo, che fanno parte di questo processo. Innanzitutto lo statuto Bertino del 1848 diventa la costituzione del Regno d'Italia. Poi lo stato è diviso in province ed ogni provincia è sotto l'autorità di un prefetto. Il prefetto, di nomina regia, quindi nominato dal re, è quasi sempre un funzionario proveniente dal Piemonte o comunque dalle regioni settentrionali, quindi del nord Italia. Infine, gli alti gradi dell'esercito e della burocrazia sono monopolizzati dai piemontesi. Questo stretto legame alla corona, e ricordiamo che Vittorio Emanuele II, il re del Regno di Sardegna, divenne re d'Italia, non è accettato di buon grado, cioè non è accettato molto bene, soprattutto nell'Italia del sud, e spesso crea malcontento e incomprensione tra la popolazione. È importante anche sottolineare come lo stesso Parlamento si mostrò impari, quindi diseguale, e non equilibrato, diciamo, al suo compito di essere il centro propulsore unitario della politica internazionale. Questo per due motivi fondamentali. Uno, l'allargamento del Parlamento subalpino, cioè del sud delle Alpi, un altro modo per dire piemontese, ai rappresentanti delle altre regioni. Questo portò quindi all'affermarsi di uno spirito regionalistico, che rimane molto forte ancora oggi, come ben sapete. Punto numero due, l'applicazione al resto d'Italia del sistema elettorale piemontese, per cui il suffragio era riservato ai ceti più ricchi e all'appartenenza ad alcune categorie privilegiate. Fondamentalmente votava il 2% della popolazione, che al tempo dell'Unità d'Italia era di 22 milioni di abitanti. E a proposito di popolazione, non ci fu una corrispondenza tra questo cambiamento così veloce dell'assetto politico territoriale amministrativo e il processo di trasformazione della società italiana. Cioè, la società italiana era rimasta la stessa del periodo preunitario, non era cambiata con le regole, mettiamola così. E qui penso sia importante condividere alcuni numeri per rendersi conto della società italiana di quegli anni. Come abbiamo detto, la popolazione era di circa 22 milioni. Di questi, il 78% era analfabeta, cioè non sapeva né leggere né scrivere. E le persone che parlavano la lingua italiana, che erano cioè italofone, erano solo 600 mila, ok? Su 22 milioni. Pensate quindi a quanto dovesse essere difficile comunicare tra i nuovi italiani. Inutile dire che spesso non ci si capiva tra nord e sud, ma non solo, ok? Simona di Learny Lango ci aiuta ad esplorare questo punto proprio nel corso completo sul risorgimento italiano, disponibile sul mio sito italiantimezone.com. La lotta all'analfabetismo, quindi alla non capacità delle persone di leggere e scrivere, fu affrontata dai primi governi italiani e il problema dell'istruzione fu risolto, per così dire, sempre con il metodo della piemontesizzazione. Infatti, la legge casati approvata nel 1859 in Piemonte fu estesa a tutto il regno. Questa prevedeva quattro anni di scuola elementare gratuita, ma non richiedeva l'obbligo di frequenza, per cui praticamente molte famiglie evitavano di mandare i propri figli a scuola. Perché? Perché ovviamente molte famiglie erano contadine. Diciamo che il 60-70% della popolazione era impiegata nel settore agricolo e quindi le braccia dei figli erano molto importanti. Un altro aspetto da citare fondamentale quando si parla di piemontesizzazione è sicuramente quello dei dazzi doganali. E qui c'è un'altra parola molto importante per la pronuncia delle parole con la zeta, perché dazzi si scrive con una zeta sola, invece piemontesizzazione, come puoi leggere dal titolo, ha prima la doppia zeta e poi la zeta singola, perché tutte le parole in zio e zione hanno la zeta singola. Ti consiglio proprio di fare shadowing con questo podcast, di ripetere dopo di me le parole per praticare proprio in modo attivo la pronuncia italiana. Dicevo, i dazzi doganali sono le imposte, le tasse indirette sui consumi che colpiscono la circolazione dei beni da uno stato all'altro o anche da un comune all'altro, se si parla di dazzi interni e non di dazzi esterni. Per capire cosa è successo con i dazzi doganali è importante sapere che al sud, come al nord, il settore industriale era discretamente sviluppato. A Napoli, infatti, era presente l'industria meccanica, così come a Genova e Torino, e a Salerno quella cotoniera, cioè l'industria del cotone, proprio come in Piemonte e in Lombardia. Queste industrie del sud erano protette da alte barriere doganali del regno delle due Sicilie, ma nel 1861 vengono adottate o imposte, qui permettetevi un gioco di parole, imposte dall'alto, le tariffe doganali piemontesi che erano molto più basse, però, e questo porta al tracollo, cioè al declino di queste industrie. Andremo ad approfondire le politiche del settore industriale e non solo nell'episodio dedicato alla politica socio-economica della destra storica. Un ultimo aspetto legato alla piemontesizzazione fu l'invio dell'esercito regio, quindi del re, nelle province meridionali per la repressione del brigantaggio, che sembrò dare alla piemontesizzazione stessa il carattere di per sé ovviamente negativo di una vera e semplice conquista militare. Ti consiglio di ascoltare l'episodio sul brigantaggio sempre del mio podcast Italian Time Zone nella stagione 2, una bellissima intervista che ho fatto con Costanza di Read and Learn Italian. Tutti questi fattori andranno ad alimentare la cosiddetta questione meridionale che vedremo sempre in un altro episodio ad hoc. Quindi, per tirare un po' le fila, in questo episodio abbiamo capito come i primi anni dopo la nascita del Regno d'Italia siano stati caratterizzati dal processo di piemontesizzazione e di come questo abbia influenzato tutti gli aspetti della società a livello amministrativo, scolastico, agricolo e industriale. Questo termine, va detto e ripetuto, porta con sé una polemica in cui confluivano diversi elementi ma fin dai mesi immediatamente successivi alla proclamazione del Regno, ok? Innanzitutto la percezione dei ceti burocratici preunitari di una perdita di status legata alla scomparsa delle vecchie amministrazioni. A questo si aggiungeva anche il rimpianto di aver perso le proprie tradizioni amministrative, cioè tu eri sempre abituato a fare una cosa in un certo modo, poi arrivano gli altri e ti dicono no, cambiamo, la devi fare come la facciamo noi, cioè provate un po' a mettervi nei loro panni. E questo sentimento si ritrovava tanto nella Lombardia ex-asburgica, quindi la Lombardia che prima era sotto l'Austria, diciamo, che tra i funzionari della monarchia borbonica al sud, così come nelle corti dell'Italia centrale, ok? Quindi tra i ceti, diciamo, di livello alto questa cosa era, si sentiva, era molto forte. Vi lascio solo immaginare dell'opinione delle masse più povere, che sicuramente hanno vissuto questo come una valanga, non avevano voce in capitolo, ecco, mettiamola così. Di contro, però, si può dire che la piemontesizzazione fu una scelta obbligata del nuovo Stato. La nascita dell'Italia unita significò l'unificazione di un paese fortemente diviso, frammentato, non solo sul piano politico, ma anche sul piano economico e sociale. Il rigido modello piemontese, così come era stato definito da Cavour nel 1853 con la legge sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della monarchia del Regno di Sardegna, ebbe il merito di fornire un quadro istituzionale stabile alla formazione del paese. Io penso che estendere e mettere in pratica le stesse regole dappertutto, senza prendere in considerazione le diverse realtà sociali ed economiche in cui si trovava l'Italia preunitaria abbia lasciato dei solchi e delle divisioni profonde nella società italiana che ci portiamo dietro ancora adesso e che andremo sicuramente ad approfondire in altri episodi di questa stagione. Voglio concludere questo episodio con uno spunto per la tua riflessione, per il tuo italiano. Ti lascio quindi delle domande a cui tu puoi rispondere in forma scritta o orale e se decidi di rispondere in forma scritta puoi anche condividere il tuo commento sotto l'episodio sul mio sito italiantimezone.com. Trovi il link in descrizione su tutte le piattaforme. Ecco le domande. E tu, cosa ne pensi? È mai successa una cosa simile nel tuo paese? Oppure conosci altri paesi in cui sono state imposte regole dall'alto senza tenere conto delle realtà sociali presenti? Ti invito a fare pratica con queste domande e appunto come ti dicevo a condividere con me su italiantimezone.com. Grazie per aver ascoltato Italian Time Zone e il podcast che ti aiuta a migliorare il tuo italiano con la storia. Nel prossimo episodio andremo a vedere meglio cos'è la destra storica e chi sono i suoi protagonisti. Se questo episodio ti è piaciuto lascia un like su Spotify o Apple Podcast e condividilo con altri studenti curiosi come te. Alla prossima!